Questa, questa e questo, così come tante altre divinità, sono praticamente volate per fare questo video, ragazzi. Ovviamente vi starete chiedendo, ma Giozzi, ma tu sei cristiano? Credi? Non credi? Sì, ovviamente, ragazzi, credo, ma credo a modo mio. Cioè, di certo non credo che Mosè, con un colpo di karatechismo, ha spaccato le acque. Comunque, ragazzi, tutto questo per prepararvi al mio rosic, entrando nel nether. Guardate che cosa è successo in quel portale di cacca. È giusto per farvi rosicare. Oh, rosicate, signori, rosicate. Vediamo chi se li ricorda, questi, ragazzi. Vediamo chi si ricorda il nome di questo fantastico... Oddio, ma sembra un'altra cosa, ragazzi. Ma che capo fa la Kinder? Che capo fa? Vediamo chi indovina il nome di questo fantastico dolce. Lascerò il cuoricino a chi indovina il nome del dolcetto, a forma molto ambigua. Detto questo, raga, guardate la mia reazione vedendo il nether. E se vi piace questa serie tutta nuova che vi sto portando sul canale, fatemelo sapere con un commento, ma soprattutto con un bel pollicione in su. Perché mi aiutate tantissimo, anche solo con un click. Perché così capisco se vi piace oppure non vi piace questo nuovo format. Quindi, raga, buona visione e preparatevi a ride tantissimo. Mannaggia, qui... Pigli, pigli, non so come si chiamano. Mato! Oddio, ragazzi! Ma che cos'è l'inferno? Mamma mia, sto proprio nell'inferno. Vai! Matalo! Matalo! Azzannalo! No! A lui, non a me! No, ragazzi, iniziamo malissimo. Oh, cazzo! Vito! Oh, merdi! Ok, oro per voi, oro per te, oro per te. Che mi ha dato? Oh! Le frecce dorate, le enderpearl. Vieni, vieni, vieni dentro. Vai dentro! Bravo! Bravo! Bravissimo! Ah! La golden rain, ragazzi. Ah! Sì, così ti voglio. Oh, me l'ha droppata! Me l'ha droppata la nederite! È quella per forza! È quella per forza, regà! Me l'ha droppata! Tifoso! Dai, che fava, regà! Oh, caccio, Billy! Mica mi danno... Non mi danno esperienze. Ah, sì, mi danno esperienze. Ok. Oddio! Oddio, posso zoomare! Increibile! E chi se lo aspettava? Sono morto! Sono mortissimo, ragazzi! Sono più morto della morte! Ve l'avevo detto che sarei morto. Voi a me non mi credete. Ah! Ok. Ok, per cavalcare questi cosi. Grazie mille, Adri. Davvero. Sto per morire, ragazzi. Sto per morire, ragazzi. Vi voglio bene. È tempo di morire e regalare sub, ragazzi. Adesso arriva un ghast, mi rompe il ponte. Io scappo, panico, vado nella lava, perdo tutto. Ma si brucia o va a fine sotto? Perché sennò questa qua è un hack. Oddio! No! Madò! Madò, ragà! Madonna del signore, ragazzi! È tempo di cavalcare. Come faccio a cavalcare quel coso? Come lo faccio a cavalcare? E adesso? E adesso, regà? Adesso se scendo mi fa scendere nella lava. Oddio! Sono schillatissimo! Sono schillatissimo! No! Sono un coglione! Sono un coglione! Sono un coglione! Sono un coglione! Oddio! Rimani qui. Nel gran recinto. Stai facendo morire. Siamo rimasti a cavalcare sto coso. No! No, ragazzi! No! No, ragazzi! Mamma mia! Mamma mia, ragazzi! Si vola! Cavalca! Si vola! Grazie mille, trattore! Grazie mille, trattore! Grazie mille, trattore! Che cazzo succede? Che cos'è sta cosa? Che succede, ragazzi? No! No! Se sale sopra si raffredda! No! Scappa, Johnny! Scappa, Johnny! Oddio! Ma va velocissimo, ragazzi! Nel nuovo bioma, ragazzi! Ci sta la... Oddio, le fiamme blu! Ma che sta succedendo a sto gioco, ragazzi? Ci sta la fortezza? Io lo parcheggio qua, Billy. No! Sono morto! Ragazzi, sono un coglione! Quanto sono schillato, ragazzi! Quanto sono schillato! C'è! Sotto la lava ho visto Rodolfino! Rodolfino! E ci sono salito sopra! Ero morto, ragazzi! Mamma mia, ragazzi! Mamma mia! E vabbè, allora! Madonnina buona del signore! Ma dove cazzo sto? È bellissimo sto posto! Mamma mia se ho rischiato, eh! Ma qua non c'è niente di buono! C'è qualcosa di buono, regà! A parte le ossa! Dai, sono stato bravo, regà! A parte le ossa c'è qualcosa di buono! Ma io sto cercando... Io sto cercando la fortezza! No, ste robe! Via, 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 via! Oh, merda! Sono morto! Ok? Ok? Vai, via, via! Grazie a tutti.